Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio mostrarvi una mappa che, come vedete, riporta la posizione di tutte, e ripeto tutte, le monete esperienza nella stagione 2 settimana 3. Quindi, se giocate in questi giorni, potete, grazie a questa mappa, raccogliere tutte le monete XP presenti nel gioco. Quindi, individuate una posizione, fissate il target, l'obiettivo sulla mappa, scendete e recuperate la moneta. Le monete sono molto semplici da recuperare, il più delle volte sono in bella vista, altre volte un po' nascoste, ma se scendete nel punto indicato in questa mappa, riuscirete sicuramente a trovarle e quindi recuperarle tutte, ottenendo un po' di esperienza per livellare nel pass battaglia. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e non dimenticate di supportare Tech Gaming su Fortnite con l'ID che trovate nella descrizione di questo video, il quale va aggiornato ogni 14 giorni.